Un anno passato è occasione di bilanci. Quanto tempo abbiamo riservato a Dio? Quanto ai nostri egoismi? E per la città di Roma cosa abbiamo fatto per migliorarne la qualità della vita? Papa Francesco nell'Omelia Alte Deum di fine anno si è rivolto alle coscienze dei presenti e di tutti. Ha prima ancora ricordato che la concezione cristiana del tempo è lineare, dunque ogni anno che trascorre ha detto ci avvicina a Dio e all'ultima ora. Dobbiamo però chiederci come abbiamo vissuto in quest'anno. Roma, ha aggiunto, è una città unica ma anche un luogo dove vivono tanti poveri, infelici, sofferenti nel contrasto stridente a volte tra la bellezza artistica e il disagio sociale. La Roma dell'anno nuovo sarà migliore, ha insistito il Papa, se non ci saranno persone che guardano la sua vita solo dal balcone, senza coinvolgersi in tanti problemi umani, problemi di uomini e donne che, lo vogliamo o no, sono nostri fratelli. Grazie a tutti.